E' quasi giorno a casa di Bing! Andiamo a vedere che cosa succede! Oh, oh, ma cosa sono questi strani rumori? Flop! Flop! Puoi venire in camera? Ho sentito dei strani rumori e ho tanta paura! Eccomi Bing! Dimmi, cosa è successo? Stavo dormendo e ho sentito dei rumori spaventosi! Ci sarà mica un mostro spaventoso? Ma no, Bing, tranquillo! Lo sai che i mostri spaventosi non esistono! Forse è stato il vento! Che ne dici? Ok, Flop! Dai, vieni giù a fare colazione! Che inizia una nuova giornata! Va bene, Flop! Inizia una nuova giornata! Vai, 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 vai! Prima mi lavo il faccino per svegliarmi un po' Faccio la pipì E tiro l'acqua Lavo le manine e sono pronto per la colazione! Ma! 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 Di nuovo quello strano rumore! Aiuto! Inizio a avere paura! Vado subito da Flop! 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 Aiuto! Bing, che cosa succede? Ho sentito di nuovo quel rumore che mi ha fatto tanta paura, Flop! Tranquillo, Bing, te l'ho detto! Sarà il vento! Dai, ora mangiamo insieme una bella fetta di torta! Va bene, Flop! Che delizia! È tutto buonissimo, Flop! Il mio pancino è davvero contento! Perfetto, Bing! Ora puoi andare a giocare! Bling, blan! Oh, hanno suonato! Andiamo a vedere chi è! Avanti! Ciao, Bing! Ciao, Flop! Benvenuta, Sula! C'è anche Pambu con me! Eccomi! Ciao! Sono pronto per giocare! Bene, allora buon gioco! Che bello che siete arrivati! Bando, Sula! Avevo tanta paura! È da stamattina che sento dei rumori spaventosi in casa mia! Bing, non mi dire così! Mi fai paura! Io non ho paura di niente! Dai, giochiamo! Wow! Che bei disegni che avete fatto! Io ho fatto una bellissima macchinina rossa rossa, brum, brum, che va velocissima! Io ho disegnato un fiorellino rosa super profumato! E io ho un bellissimo alberello! Davvero tutti e tre bravissimi! Oh, ma che cos'era? Te l'avevo detto, Flop! Il rumore che sento da questa mattina! Sarà un fantasma? O un mostro? No, tranquilli, Flop! Dice che è il vento! Ma sì, sarà proprio il vento! Tranquilli! E questo rumore? Sono sicuro! Arriva dalla cucina! Andiamo a vedere! Ma io ho paura, Flop! Non mi sembra il vento! Mi sembra qualcos'altro! Sarà un mostro! Oh, un fantasma! Ma no, tranquilli! Andiamo a vedere, su! Oh no! Che disastro! E che paura! Chi sarà stato? Sarà stato il mostro misterioso che mi perseguita da questa mattina facendo rumori! Ok, forse inizio anch'io ad avere un pochino di paura! Ma tranquilli! Vedrete che ci sarà una spiegazione! Avete sentito? Il rumore proviene da qui dentro! E adesso? Chi ha il coraggio di aprire? Io no, per favore! Flop, ci pensi tu, vero? Ma certo! Vediamo un po'! Ed ecco il mostro misterioso! Quindi il mostro misterioso è un piccolo scoiattolo! Poverino! Deve essere finito qui in casa e non saprà come uscire! Aiutiamolo noi! Ve l'avevo detto! Non esistono i mostri spaventosi! Andiamo a liberare lo scoiattolino! Ciao, ciao, scoiattolino! Ora sei di nuovo libero! Direi proprio che risolvere misteri di mostri misteriosi è una cosa da Bing!